altra partita la settima del girone adesso big match le squadre che sono prime in classifica a pari punti e a punteggio pieno gioca giochiamola sempre arsenal contro testa soccer inizia la partita tra giochiamola sempre arsenal e testa soccer squadre che sono in testa pari punti con due vittorie per uno su due partite giocate giochiamola sempre in maglia rossa attaccherà da sinistra verso destra invece il testa soccer lo farà da destra verso la vostra sinistra verso la sinistra dei vostri device e dispositivi mobili prossimi appuntamenti che sono la finale terzo quarto e quinto posto quindi il piccolo triangolare tra la terza la quarta e la quinta intanto l'uno a zero dello capitano martinez che viene a festeggiare sotto le nostre telecamere visto molto ancora perché c'è la squadra in maglia rossa che pressa tantissimo cerca di allungare il vantaggio gol anzi tiro di roberti palla che va fuori roberti recupera palla per martinez che dopo lo stop subito il tiro ma ciccato va contro il portiere poi c'è fiore roberti di sinistro buona l'idea arriva fiore non riesce ad uscire il testa soccer seguito del giochiamola sempre che sta per recuperare anche questa adesso la prende il portiere nolla afferra però la lascia via martinez ancora ci prova tre tiri tre volte murato dalla difesa roberti palo ora martinez c'è dietro manocchio però cercava giustamente di metterla in mezzo per fiore e roberti verso numero cinque con le mani la batte subito per il capitano martinez ancora fiore lontano contro un'avversaria va sulla sinistra roberti si prova subito pallone tra le braccia dell'estremo difensore del testa soccer salandra la mette in mezzo pallone murato che fai? te la guardi fileni è benoglio, che apri viene recuperato dall'avversario ma poi spera che si accomoda in out rimessa laterale battuta dalla salandra che recupera la palla il tiro di la salandra murato ancora rimessa laterale palla verso Staiola può tirare lui la parata dell'estremo difensore doppia parata si fa anche la parata dell'estremo difensore cioè Carnevali che chiude il tutto ancora in possesso giochiamola, giochiamola sempre Carnevali giocano in più i ragazzi del testa soccer non si rendono conto sei contro cinque ma giochiamola sempre ormai è diventato un filo all'avversario c'è il gol di Staiola 2 a 0 per il giochiamola sempre Arza 12 e 15 sul cronometro Staiola palla murata dalla barriera Fileni ancora muro Carnevali palla che fa fuori benvenuti alla fine dell'incontro ancora Carnevali ruba la palla Carnevali c'è la salandra Lucio la salandra 3 a 0 segna il piccolo in maglia 8 per il giochiamola sempre Arsenal ci proverà con il sinistro carico vediamo dal suo body language il tiro di la salandra palla per Carnevali c'è Staiola la palla murata palla ragazza in difesa per il testa soccer ancora cercano di andare via da uscire dalla difesa ma nulla da fare la salandra ancora ruba e tira palla che va fuori tira palla murata Staiola 4 a 0 e c'è il triplice fischio finisce qui l'incontro giochiamola sempre Arsenal 4 testa soccer 0